Ciao ragazzi, siamo qui a segni di ripartenza, la location che ci ha ospitato giovedì scorso quando abbiamo fatto il primo Satori Spot ed è andato veramente bene, siamo felici del feedback che abbiamo avuto da tutti i partecipanti e vogliamo informarvi di quello che faremo giovedì prossimo. Sì, giovedì 15, saremo di nuovo insieme dalle 18.30 fino alle 21 e questa volta siamo orgogliosi di riportare diciamo quello che è il nostro seminario numero uno, almeno in pillole, ma insomma il seminario con il quale siamo partiti parecchi mesi fa ed è quello che parla proprio della difficoltà di capire come mai non si riesce a cambiare, quali sono quelle strutture che ci impediscono di vedere le cose diversamente. Lo faremo in modo esperienziale, faremo dei laboratori, faremo degli esercizi, ci divertiremo in modo tale che ognuno, se vuole, dal giorno dopo potrà mettere in pratica qualche cosa. Ovviamente vi aspettiamo, fateci sapere per tempo se ci sarete o meno e ricordatevi che rendersi conto è una scelta. Grazie. Ciao.